Manifestazioni dei lavoratori della sanità privata stamani organizzati dalle federazioni regionali CGL Cisle Will davanti alle prefetture di tutta la Sicilia per protestare contro il mancato rinnovo del contratto nazionale scaduto ormai da più di 14 anni che regola anche i rapporti di lavoro degli oltre 3.200 lavoratori della SEUS 118 della regione siciliana. Niente, dopo 14 anni che aspettiamo il rinnovo contrattuale, c'è stata la preintesa a giugno che poi i vari AIOP e IRS non hanno confermato la preintesa e hanno annullato tutto, non sono presentate al tavolo delle trattative, quindi noi richiediamo i nostri diritti, 14 anni di contratto rinnovato è quello che ci spetta perché c'è una differenza tra sanità pubblica e sanità privata, mentre i colleghi lavorano allo stesso modo sia al pubblico che al privato. E sostanzialmente cosa chiedete? Fattivamente cosa chiedete? Quello che loro hanno fatto la preintesa, la firma del contratto, l'aumento contrattuale, già c'è stato il pre-contratto, solo che loro non hanno rispettato il momento della firma finale. L'attuazione della preintesa e stiamo attendendo da anni, da 14 anni come diceva Massimiliano, questo rinnovo che dovrebbe essere il proseguo di una preintesa che c'è stata qualche mese fa, ma attualmente non abbiamo nulla in mano, semplicemente questo. Da SEUS non arrivano risposte? Da SEUS non arrivano risposte perché fondamentalmente il contratto con cui noi facciamo riferimento è un contratto di sanità privata, quindi attendiamo l'attuazione di questo contratto di cui è stato già riannovato IOP e con cui dovremmo in qualche modo migliorare la nostra situazione, la nostra situazione non solo economica ma anche da un punto di vista professionale. Ricordiamo il vostro lavoro, magari al di fuori di una sigla che molti non conoscono, cosa fate voi effettivamente? Ho visto il corritorio al 118 di Agrigento, ma in tutta la Sicilia il 118 svolge emergenza urgenza sul territorio, quindi non c'è differenza tra un operatore sanitario del pubblico e privato, tutti gli stessi abbiamo gli stessi rischi e le stesse cose che giornalmente ci hanno preso per eroi del Covid e poi l'hanno dimenticato dopo il cessato di emergenza Covid. Quindi siamo qua nell'attesa che ci venga riconosciuto il nostro diritto che non chiediamo nient'altro. Praticamente noi ci rivolgiamo ai rappresentanti delle associazioni IOP e ARIS, in quanto loro nonostante tre anni di duro e complicato lavoro e di trattative, all'ultimo quando proprio era arrivato il momento di opporre la semplice firma e oltre alle nostre rivendicazioni economiche noi rivendichiamo soprattutto le condizioni di lavoro, perché ad esempio se un dipendente della sanità pubblica abbia necessità di allontanarsi dal lavoro in quanto dovrebbe assistere un familiare caro per un lungo periodo di tempo, adesso questo è un piccolo esempio che faccio, ci viene riconosciuta la mensilità, certo molte indennità no, però di base l'indennità viene riconosciuta. Noi nonostante facciamo lo stesso lavoro di chi ha un contratto di sanità pubblica, siamo in prima linea, come poco fa ha spiegato il mio collega, non abbiamo riconosciuto tanti diritti, quindi la nostra protesta non è solo e esclusivamente riconducibile a un discorso economico, ma di diritti di dignità che dopo duri anni e duro lavoro siamo stati boicottati e presi in giro da gente che invece attualmente percepisce soldi pubblici, perché la sanità privata è pagata con soldi pubblici, con conversamenti pubblici che le regioni mensilmente versano nelle loro casse e che dovrebbero fare un lavoro di tipo imprenditoriale e che di fatto si appoggiano invece su fondi pubblici. Quindi di fatto ritengo che non sia giusto che i lavoratori della nostra categoria della sanità privata, oltre a quelli del 118 ci sono anche altre figure professionali, infermieri, portantini, medici, debbano essere equiparati e debbano essere tutelati e il loro lavoro deve essere riconosciuto alla pari di chi fa un lavoro e di chi ha un contratto di sanità pubblica.